Cinque tavoli tematici per raccogliere idee, proposte e progettualità utili a rilanciare la Puglia dopo i disastri combinati dai governi di centro-sinistra. E' questa l'idea, ed il conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, di Direzione Italia, che chiama a raccolta sabato 16 dicembre tutti gli iscritti simpatizzanti i propri rappresentanti negli antillocali in Consiglio regionale pugliese nelle due Camere della Repubblica per un'intera giornata di confronto e di riflessione sul presente e sul futuro della Regione Puglia, senza distogliere lo sguardo dagli scenari che si vanno delineando anche nell'imminenza della tornata elettorale per le politiche del 2018. La convention regionale del partito di Raffaele Fitto si intitola infatti Obiettivo Puglia. Convention che vuol traslare l'esperienza meravigliosa che abbiamo vissuto un po' di tempo fa a livello nazionale, quando in vari tavoli tematici si sono affrontate quelle problematiche che riguardano la quotidianità della gente. Parleremo di welfare, parleremo di sanità, parleremo di agricoltura, vedi il dramma dell'Axilella che sta devastando i nostri ulivetti, parleremo di turismo, parleremo di finanze locali, non dimenticandoci, per fare un esempio, che i pugliesi pagano l'IRPEF, l'accise su benzina, su gas, in maniera superiore a tutti gli altri cittadini italiani per venire incontro ai buchi che si creano in sanità. È una dimostrazione concreta di come Direzione Italia vuole non solo a parole ma nei fatti dimostrare di anteporre sempre e comunque gli interessi generali agli interessi di parte.